ciao a tutti amici ed amiche di stene channel e ben ritrovati a casa stene in versione a marc cord undicesima puntata il racconto odierno parlerà di una rete particolare realizzata nel corso di ella sverona inter nel lontano 9 febbraio 1992 dall'allora capitano dei gialloblu e zio rossi un gol speciale particolare perché cela un mistero che a distanza di tantissimi anni finalmente può essere svelato serie a stagione 1991 92 in calendario per la ventesima giornata di campionato tiene banco la sfida tra l'ella sverona e l'inter i nero azzurri dopo le dimissioni di mister orrico sotto la guida della leggenda interista luis suarez stanno ritrovando risultati e condizione gli scaligeri mister fascetti invece vogliono conservare per il momento la quintultima posizione in classifica che rappresenta la quota salvezza in più tra i gialloblu è stato annunciato il rientro di dragan stojkovic uno dei più talentosi calciatori della jugoslavia dell'epoca un vero e proprio colpo di mercato per la società di stefano mazzi i dirigenti scaligeri hanno investito una cifra importante su quello che viene definito il maradona dell'est proprio per evitare di navigare nei bassi fondi della classifica purtroppo una serie di infortuni ne hanno limitato il rendimento al 23esimo minuto un suggerimento dell'ispiratissimo stojkovic viene raccolto da raduccioio che lo trasforma in un assist al bacio per ezio rossi che è sul punto giusto e al momento giusto per portare in vantaggio il verona per stojkovic in verticale per raduccioio sul fondo il cross ezio rossi gol verona in vantaggio al 22esimo del primo tempo gol di ezio rossi che va a risultare sotto la curva nord quella occupata dai tifosi del verona tanto per intenderci con questo gol ezio rossi regalò una vittoria importantissima al verona contro l'inter e ai posteri una storia unica nel suo genere la rete realizzata dal capitano scaligero nel corso di questa sfida per quanto tecnicamente semplice e quindi per nulla acrobatica ha comunque un significato estremamente particolare in quanto c'è là dietro di sé un mistero rivelato proprio dallo stesso ezio rossi poco tempo fa 20 giorni antecedenti ad ellas verona inter il difensore giallo blu si era fratturato una costola a fronte di una sfida così importante contro i neroazzurri il verona pur di non privarsi del suo leader in campo decise di farlo scendere sul rettangolo verde nascondendogli meticolosamente sotto la maglia un giubbotto protettivo da football americano per i parali costato in qualsiasi frangente la scelta ovviamente risultò azzeccata in quanto fu proprio a ezio rossi il mattatore di questo match purtroppo il tempo a disposizione è scaduto e quindi si conclude qui quest'undicesima puntata di casa stene in versione marcord con la speranza che questa storia vi sia piaciuta vi ringrazio come sempre della vostra consueta attenzione e vi aspetto sempre qui su stene channel ciao a tutti